Chi fa politica è chiamato ad accettare la sfida di una tensione insopprimibile tra valori alti e interessi bassi in uno strabismo che obbliga a tenere un occhio fisso su Socrate e l'altro su Machiavelli. E' la politica la protagonista indiscusa del nuovo libro di Attilio Danese, già docente universitario di filosofia politica, dal titolo All'ombra del principe. I ragazzi di oggi non credono più nella politica. Ecco, lei è uno studioso della politica. Perché bisogna credere nella politica ancora? C'è una tendenza a parlare di post-politica. E' uscito un libro di Crouch che lamenta il fatto che la politica sia ridotta a una specie di marketing, soprattutto in occasione di campagne elettorali. Questo fa perdere fiducia nei ragazzi. Invece nella mia riflessione, negli anni che ho insegnato, ho sempre cercato di far capire come la politica sulla scia di Platone è l'artereggia. Cioè è quella che si occupa di tutti noi. E' quella che si dovrebbe occupare del bene comune. Poi ci sono le defiance, ci sono le cadute, ci sono le corruzioni, le contaminazioni. E questo certo allontana i ragazzi dalla politica. Nel suo libro All'ombra del principe, lei racconta la politica dalle origini fino a Machiavelli. Secondo lei chi è stato il più grande politico? Io mi sono fermato a Machiavelli perché Machiavelli è uno snodo centrale. Il suo distaccare la politica dalle altre influenze di tipo moraleggiante oppure dalle potenze del tempo per dare alla politica il senso di essere una scienza autonoma assegnandogli un fine, conquistare il potere, come conquistare il potere e come mantenerlo permetteva a lui di andare un po' oltre i limiti dei principi etici del tempo. Naturalmente non è che se ne voleva allontanare, è sbagliata anche la frase il fine giustifica i mezzi. Nel suo discorso, cioè al fine di andare a prendere possesso di uno Stato, poi per mantenerlo, allora tutti gli strumenti sono onorevoli, diceva Machiavelli. Ma anche quello di parlare alla pancia della gente con poca cultura? Io penso che questo è un degrado della politica perché parlare alla pancia della gente significa fomentare un po' gli istinti e non far trovare la consapevolezza, le argomentazioni.